Allora, è stato un campionato molto bello, eravamo grandi e piccoli, tutti insieme, quindi è il sogno di tutti i ragazzi che iniziano a fare windsurf e trovarsi in mezzo a medaglie olimpiche, quindi è una cosa molto bella. Poi per le regate più o meno siamo rimasti tutti soddisfatti e anche con qualche errore dei giudici. Poi, non lo so, il mio campionato è iniziato molto bene, dato che i primi due giorni ero in prima posizione, peccato per i giorni dopo in cui ho sbagliato un paio di prove e sono sceso. Poi, infine, alla meta race ci sono stati dei casini. Alla prima meta race che ci hanno annullato eravamo primo, secondo e terzo gli italiani perché eravamo sei gli unici a girare la boa giusta e comunque hanno messo un segnale che diceva di girare la trabona invece di quello che dovevamo fare, però, inspiegabilmente, la regata è stata annullata. Eravamo tutti molto arrabbiati, Mauro compreso, io, Carlo, perché sarebbe finita diversamente. Mentre quando ci hanno fatto rifare la meta race, poi non è andata molto bene e l'ho chiusa in certa posizione. Ieri sera la festa era molto divertente e sul telefono ho un paio di selfie con un ubriachissimo Dorian, medaglia olimpica di Londra, medaglia d'oro di Londra. E poi gente che si arrampicava a quella su la vista da ballo.